Innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo il Milan Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Guardo il Milan alla tv, seguo le partite alla radio, ma mi esalto molto di più Quando esco e vado allo stadio, canto per 90 minuti Anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti Tutto per il magico Milan, non mi importa quando e dove Vincere è quello di cui ho bisogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Grazie per la visione 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 salutiamo tutte le persone che ci stanno guardando anche da milan tv diamo il benvenuto al mio compagno di avventura del giovedì come sempre un grigio mauro summa ma non grigio di umore grigio 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 di e ciao buongiorno lollo buongiorno pensavo che vi facevi salutare del 2025 a bom 20 24 vero ma ora è la prima la prima diretta dell'anno pensa cosa riesco a dire a tutti a tutti esatto con un poema vera e no sempre sempre auguri a tutti vorrei avere della carne sanguinolenta sotto i denti per carità di patria ciao sofia ciao cristina ciao ale ciao ciao benvenuti buon anno è un anno buon anno tutti vedo quando fai il sorriso nervoso di paura che capisci che sto per sbroccare esatto quel sorriso lì che tengo un po dentro che cerco di sviare in qualsiasi modo allora mauro ciao ciao cosa importante speriamo bene per questo 20 24 dita incrociate dai sempre se esatto sempre bandiera alta della c milan sempre mauro prima di andare subito dal nostro primo ospite so che abbiamo un aggiornamento sapevamo che era l'atalanta la nostra prossima squadra sfidante per la coppa italia ma abbiamo un aggiornamento te lo lascio l'aggiornamento di oggi è il 6 di date diciamo come direbbero quelli che parlano bene come te quelli che parlano young e quelli che parlano fichi no sì 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 dopo crop vale tutto guarda che ti croppo poteremo con l'atalanta ragazzi allora mercoledì 10 gennaio sarà una giornata importante perché allora guardate la settimana domenica empoli milan e milan e chiedo scusa empoli milan e roma atalanta mercoledì coppa italia lazio roma alle 18 e milan atalanta alle 21 milan atalanta mercoledì 10 gennaio alle 21 ragazzi dobbiamo fare sold out fare di tutto per passare il turno e poi la domenica successiva milan roma quindi milan roma e atalanta l'atalanta gioca sia col minan che con la roma la roma gioca sia con l'atalanta che colmina quindi è una settimana bella dura e bella tosta oggi è stata una giornata proficua di lavoro a minanello che magari nel corso della della chiacchierata racconteremo qualcosa assolutamente partiamo subito con il nostro primo ospite mauro che axel campeol e ciao 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 benvenuto a ciao axel bel fioe bel fioi con la faccia da milanista perché ho voluto ho voluto chiamare axel grazie alla sua amicizia con mio fratello andrea che dice di giocare bene a padre il mio fratello è vero axel per i crociati i minischi che che non ha più se la cava ecco ecco perché la mia mamma e mio papà sono l'assume io faccio il mazzo ogni giorno a mio fratello gli dico di non fare sport perché con quelle ginocchia lì non può ma lui va avanti a farlo va bene perché la mia povera mamma l'avrebbe sicuramente fatto però mio fratello è molto amico di axel è molto sportivo e molto è axel campeol mi si è venuto in mente il giorno dopo milan cagliari axel perché vedendo giocare ximenez zerolli bartesaghi simic mi sono venuti in mente gli anni in cui i ragazzi della primavera erano meno fortunati avevano meno chance del calcio di oggi e magari adesso tu ci racconterai un po la tua storia perché la tua storia meglio di te non la conosce nessuno e magari poi le vie del calcio prendono altre direzioni no insomma io io penso che anche il tuo esempio debba servire axel a dire i ragazzi di oggi che sono molto fortunati che hanno una grande chance che devono sfruttarla impegnandosi a fondo axel ti guarda mauro ne parlavo giusto oggi con mio papà che abbiamo vissuto un po momento di nostalgia così rivedendo un po di video foto di di quando giocavo al milan anche perché cosa vuoi il milan per me è stata casa sono arrivato a milano a 11 anni e il milan è stato è stata la mia quotidianità il mio pane aver vissuto dapprima al vismara poi milanello è stata un'esperienza di vita che che mi ha formato e che tuttora mi serve ancora mi fa fa la differenza provo a fare la differenza anche eh in in ambiti chiaramente diversi perché purtroppo il mondo del calcio non è più il mio mondo eh per scelta personale o come mi ha formato e come quello che mi ha dato il milan è inspiegabile ecco ecco però giustamente anche lo lo dice sei molto giovane cioè raccontaci un po la tua storia sei arrivato al milan da bambino ce l'hai detto sei stato al milan credo fino al duemiladiciotto no eh poi in in tempi in cui non era facile alla primavera andare in prima squadra ecco lì no raccontaci un po dal duemiladiciotto a oggi ad adesso al gennaio duemilaventiquattro Axel. Ah questa sera che la mia ultima esperienza al mila è stata nella primavera di mister Gennaro Gattuso quindi non una persona a caso e un allenatore una persona che mi ha lasciato dentro eh dei valori che che ad oggi ancora e forse tante volte mi dico che sono stati quei stessi valori che io poi ho ricercato in chi è venuto dopo nelle altre mie esperienze eh calcistiche che non ho più ritrovato che probabilmente hanno cominciato a far scendere la mia la mia passione la mia voglia di giocare o comunque sia eh con quell'idea lì eh dopo il primo anno di primavera in cui giocavo sotto età perché ero uno dei più giovani a giocare in campo giocavamo io Bellanova eh pochi altri duemila era l'annata del 99 e 98 e si vociferava che il Milan dovesse fare la famosa seconda squadra quindi esattamente quindi erano un buon allenatore un Marco Simone allenatore e a noi veniva detto che lui era in albergo che stava aspettando solo il via e nulla osta eccetera continuava a scrivere a me allora Mauro cosa succede? Marco non lo so Gioia esatto e noi eravamo aggregati in prima squadra perché mi ricordo che quell'anno lì mi allenai con Higuain che era appena arrivato insomma eh c'era quella sai quell'elettricità di dire oh finalmente qualcosa di di ancora meglio di più stimolante però alla fine non non mi ricordo adesso a memoria non mi viene in mente il motivo per il quale poi non si è concretizzata la cosa e e quindi mi chiesero di rimanere ancora un altro anno in primavera al Milan solo che chiaramente avevo visto delle dinamiche che non mi piacevano e per fortuna dico tra virgolette mi ha comprato la Samp quell'anno e l'anno stesso in primavera noi ci siamo salvati e il Milan retrocesso in primavera due quindi è stata cioè veramente straziante per me andare via dal Milan ma diciamo per fortuna tra virgolette perché comunque sia eh mi ha dato l'occasione di di farmi un altro anno di primavera comunque ero aggregato in prima squadra la Samp e scendevo solo a giocare eh il weekend quindi eh anche da quel punto di vista ero tra l'altro nella Sampdoria di mister Gianpaolo certo 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 e poi poi non lo ti lascio Axel eh sto solo tanto sì sì sto raccoliendo e poi perché così giovane oggi non sei più un professionista del calcio Axel perché dopo l'ultimo anno in cui tra l'altro è stata la mia annata migliore a livello calcistico perché ho fatto il playoff per andare in Serie B col Grosseto comunque la stagione ecco ho trovato continuità eccetera eh mi sono reso conto che il contro erano superavano i pro non mentalmente non ero più non ero più dentro non non provavo più gioia nell'allenarmi non non era giusto che io portassi via al posto in squadra a qualcuno che magari in quel momento aveva sicuramente più fame di me e quindi ho reputato più saggio dirmi ok fermiamoci eh non ha senso a 21 anni e 20 anni sopravvivere in questo mondo che mi sta facendo tra virgolette del male e poi ritrovarmi a 30 31 che devo reinventarmi ho detto prendiamo la mia vita in mano e cambiamo capisci Lollo come sono sottili gli equilibri ho voluto proprio la testimonianza di Axel per fare anche per far capire il nostro piccolo e i nostri ragazzi di oggi che fortuna hanno e come se la devono giocare Lollo è vero vero è importantissimo importantissimo intanto Axel ti giro ti giro insomma ti salutano tutti vedo Indonesia Francia Spagna Germania insomma ci stanno scrivendo un po' da tutte le parti del mondo ci stanno seguendo in diretta e volevo girarti i saluti da parte di tutto il popolo rosso nero allora ho raccolto tre domande che sono un po' tre domande figlie anche di quello che di cui stavi parlando proprio in questi momenti vado così come sono arrivate Redi ti chiede seconda squadra ne stavi parlando quanto sarebbe importante per i giovani confrontarsi subito con il calcio dei grandi tantissimo tantissimo perché c'è un gap incredibile tra primavera e le prime squadre banalmente io ho vissuto anche a livello traumatico il distaccamento tra primavera e serie c cioè purtroppo lo dico anche senza problemi ho peccato di arroganza e di presunzione dicendo vabbè ma in serie c cosa vuoi gioco tranquillo e invece non è assolutamente così non è assolutamente così l'anno a peso lo beccai i pugioni che faceva il portiere da noi e lui ci ha aiutato tantissimo perché ci ha fatto capire che il mondo non era nelle nostre mani e non era finita cioè quello che avevamo fatto non contava già più niente e purtroppo non avere una via di mezzo che ci accompagni dico cina anche se vorrei che fosse ancora così ma non è più così ma che accompagni giovani nell'inserimento del mondo professionistico del calcio che conta diciamo sarebbe troppo importante assolutamente sai che mi hai fatto venire in mente dicendo quella frase noi qua ospiti abbiamo avuto tanti ex giocatori anche giocatori attuali e quella cosa che appena detto è una cosa che ripetono in tantissimi che tutto quello che hai vinto tutto quello che hai fatto nel calcio anche se giochi nel milan in prima squadra hai vinto uno scudetto tu dalla mattina dopo quello non conta più niente perché tu esattamente con scusami banalmente mi viene in mente un aneddoto io mi sono presentato a pesaro che è una squadra di tutto rispetto assolutamente ci mancherebbe una squadra che comunque ogni anno lotta per salvarsi serie c poi se va bene andare ai play off e con un tacuino un palmare che diceva 40 presenze nelle nazionali giovanili eccetera sono arrivato lì con dire dai c'è quindi qua sarò un po' una star eccetera ma per sei mesi c'è gente che non me neanche guardato in faccia cioè e mi pestava dalla mattina alla sera in ogni allenamento e io ho capito che forse cambiare qualcosa assolutamente assolutamente poi vediamo vado così un po a random sabri vorrei la tua opinione su cdk scharze che telare e cosa vuol dire per un giovane la pressione di giocare in uno stadio come san siro allora io mi ero mi ero già espresso anche l'anno scorso e avevo fatto un post tramite una testata giornalistica che veramente ha creato scalpore mi era arrivata una quantità di messaggi non capisce un cazzo in cui io avevo detto che secondo me di cater era un giocatore di un talento incredibile e giocatore di quel livello chiaramente un cosa una cosa è giocare nel campionato belga è una cosa venire a san siro con 80.000 tifosi che chiaramente pretendono perché se tu gli hai scelto pagato per a quelle cifre comunque devi dare delle risposte poi quello che io posso rimproverare se così vogliamo dire ad di catera non è tanto dal punto di vista tecnico ma caratteriale perché tecnicamente il milan ti perdona non è un problema ma caratterialmente no cioè per stare al milan devi avere qualcosa in più e se non ce l'hai giù e tu va d'altrove ma va benissimo che hai detto questa cosa che hai detto va scolpita tecnicamente il milan ti perdona ma caratterialmente non una cosa da scolpire axel i ragazzi di oggi no li hai visti in coppa italia hai visto chi menezi menezi un giocatore è un giovane ma eh ha un motore importante e questo tu lo sai sei dentro sei stato dentro il calcio sai che ogni squadra poi guarda un certo tipo di tabelle dopo le partite i numeri non mentono mai ha un motore importante sì mi ci ha fatto bene zeroli ha tante possibilità bartesaghi poi cià tra ore ecco a questi ragazzi che hanno una grande fortuna cioè questo è il momento sai oggi erano tutti sui giornali tanti elogi non devono adagiarsi devono giocarsela è la chance che tanti ragazzi hanno sognato non hanno avuto loro ce l'hanno e devono continuare a battere il ferro finché è caldo glielo dice anche tu axel ma assolutamente io il consiglio che gli darei è quello di spegnere il telefono e non uscire di casa se non per andare ad allenarsi per i prossimi due mesi perché il problema è che poi ovviamente la bolla mediatica basta che vedi oggi guardavo l'equip ha messo il video di ciaccata ore che fa gol in coppa italia che va benissimo è giustissimo che sia così ma è sempre la differenza tra chi la vede come un punto di arrivo e chi la vede come un punto di partenza io bartesaghi tutta questa zeroli e tutta gente che ho conosciuto bene perché ho lavorato anche in un breve periodo della giovane italia con sky e quindi è gente che sono andato a seguire personalmente di cui ho fatto valuto la valutazione tecnica tattica mentale quindi sono giocatori che conosco bene e sono tutti i giocatori che hanno tutte le potenzialità del mondo per fare bene ma non bene di dire sai gente che può fare la differenza tranquillamente per doti fisiche e tanti mi hanno di quelli che sono arrivati lo sapevo perché mentalmente e soprattutto di background familiare è gente che è posata gente che axel siccome non tutti faranno la differenza cos'è quello spicchio quel margine che invece ti fa fare la differenza e invece no io credo che sia la voglia che hai dentro di di arrivare a sé alla fin fin è quella perché se fossimo tutti bravi tecnicamente giocheremo tutti in serie a però perché certa gente arriva e tanti altri no probabilmente quello quanto uno ci crede quanto uno lo vuole poi o nella vita può succedere di tutto ci mancherebbe anche io a mio discapito dico io ci credevo tantissimo e purtroppo sono successe tante di quelle cose che mi hanno portato a a non volerne più sapere per un anno e mezzo di calcio proprio a ripudiare qualsiasi forma calcistica adesso per fortuna quest'anno ho ricominciato ad andare allo stadio che era una cosa che mi mancava tantissimo e a san sirio vado quasi tutte le domeniche perché comunque c'è gente anche in prima squadra i vari popega eccetera con cui ho giocato in primavera quindi a tutte le persone che mi fanno mi fa piacere vedere e che meritano di essere lì perché comunque torniamo sempre a quello mentalmente gente che è sempre data a mille all'ora poi tecnicamente per carità c'è chi preferisce un tipo di giocatore un altro ma se mentalmente vai a mille fai fatica non arrivare axel io ti volevo chiedere un'ultima cosa riguardo questa è mia non arriva dalla chat riguardo alle famiglie perché tante volte si trascura l'impegno che mettono le famiglie sono papà l'impegno che mettono i genitori per portare ragazzi ad avere un'opportunità nel calcio nella vita e volevo una tua testimonianza di quanto una famiglia si sacrifica per aiutare i propri figli a raggiungere il proprio obiettivo la mia la mia testimonianza anche parla da sé nel senso che mia mamma 11 anni chiaramente io non potevo essere subito acquistato al milan perché non avevo neanche 14 anni e quindi chiaramente il milan mi ha aperto le porte a 11 anni e ho detto è io tre anni non li aspetto dobbiamo trovare una soluzione e mia mamma che aveva un asilo nido ha dovuto chiudere i battenti e trasferirsi con me a milano cercare lavoro lì e mio papà da allora perché lo fa ancora oggi ogni weekend si fa 350 chilometri dal veneto per per venirci a trovare quindi è una cosa però che poi quando sei in campo e li vedi sugli spalti cioè viene ripagata nel senso che li vedi li vedi contenti li vedi orgogliosi e infatti ho iniziato a preoccuparmi quando al di là del fatto che per la quarantena non si potesse più andare allo stadio e quello mi è dispiaciuto tanto però quando ho cominciato a vedere gli occhi dei miei che non brillavano più vedermi giocare ho detto ok c'è un problema vuol dire che non sto più dando emozione devo un attimino capire cosa sta succedendo e poi da lì è iniziato tutto tutta l'analisi che ha portato a dire cambiamo vita tutto tutto il processo lollo la famiglia di alex campeol è stata una famiglia ma come molte altre che si è sacrificata per il suo ragazzo ci sono molte altre famiglie nessuno di noi è perfetto invece che mettono più pressione addosso ai figli agli allenatori che sacrifici per i figli insomma ognuno poi al suo temperamento suo modo di vedere le cose però direi che che la storia che ci ha raccontato axel è una storia ricca ricca penso che abbia insegnato molto anche a tutti i nostri tifosi che seguono il calcio sai tu vuoi vedere il giovane vuoi vedere lo vuoi vedere subito forte bello biondo con gli occhi azzurri invece ci sono tutte queste storie dietro un'apparizione in prima squadra dietro una panchina dietro un sogno cioè ci sono tutte le cose che ci hai raccontato tu axel dietro dietro i giovani che vanno e vengono come le onde del mare verso san siro no che dici no assolutamente assolutamente poi per dirti banalmente l'ultimo anno che ho vissuto in convitto al milan avevamo il bnb a san siro e lo stadio neanche un minuto e mezzo meno e pensa quanto ero diciamo capriccioso comunque sia non mi rendevo conto della fortuna che avevo ho passato due anni non sono mai andato allo stadio perché comunque sia vuoi non vuoi sempre torniamo sempre a quello no la bolla mediata diciamo vabbè ma gioco in primavera mi allena gattuso oggi abbiamo vinto contro la juve che giocava con piazza allora siamo forti ma non ti rendi conto di quello che ti succede tutto intorno sia a livello di educazione finanziaria che è una cosa per il quale mi continuo a batte anche io perché c'è un tasso di indigenza poi nei giovani che non riescono a sfondare che è assurda e non capisco perché non venga fatto un percorso per accompagnarli a capire l'importanza del denaro il valore dei soldi e quindi è tutto tutto un mondo che finché ci sei dentro dici wow appena ne esci dici ero fortunato educazione finanziaria mi ha fatto venire in mente l'nba che fa i corsi quando arrivano i giovani che arrivano in nba la prima cosa che li fanno fanno tre settimane in cui gli dicono guarda tu da domani guadagni milioni di dollari ma devi saperli gestire perché sennò va a finire male è una cosa hai toccato un tema molto 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 importante axel io avevo ancora una domanda su gattuso se hai ancora due le chat sono curiose ti chiedevano come axel lo lo come axel da riposte non banali la domanda in più è sempre ben accetta ti chiedevano insomma com'era gattuso come allenatore te lo chiede meri e ti chiedeva anche come persona al di fuori no sei dal dal personaggio pubblico dal rino gattuso che tutti noi conosciamo grazie marcella ti chiedono insomma com'era 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 rino 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 era una persona io io parlo a livello umano prima che come allenatore che mi ha dato tantissimo mi ricorderò sempre che adesso mia mamma ogni volta che parla di quando giocavamo al milan eccetera eccetera cita una frase che dissi una volta che era che noi il martedì in primavera facciamo un allenamento che era stremante cioè ho finito tre quattro volte veramente vomitando l'anima in campo ma nel percorso per tornare in hotel mia mamma mi chiamava e praticamente a stento io non riuscivo a parlare talmente ma gli dicevo se mi richiama per andare ad allenarmi di nuovo io ci parlo perché ti dava mente tanto talmente tanta carica talmente ti responsabilizzava talmente tanto che ti dicevi io io voglio vivere ogni minuto che posso con una persona del genere perché so quanto mi può dare e poi a livello tattico e tecnico aveva uno staff dietro riccio eccetera che era veramente super preparato cioè noi abbiamo vissuto delle cose in primavera che arrivavamo con analisi video personali tutte le caratteristiche dei nostri avversari e c'eravamo quando giocavamo tra sassuolo scamacca in percentuale va 60 volte sul destro 40 sul sinistro sapevamo tutto 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 c'era impossibile che sbagliassimo per una cosa che non sapevamo cioè a quel punto era proprio una responsabilità nostra ma abbiamo vissuto delle cose e poi un personaggio spiritoso sapeva capire i momenti sapeva usare bastone carota io mi ricordo ti racconto questa aneddota perché mi lo racconto sempre mi fa molto ridere prima partita in campionato il primo anno in cui tra l'altro c'erano retrocessioni e promozioni in primavera quindi non era già che era una prima vera che cominciava nelle sembianze di un campionato normale perché in campionato ormai è comunque lotti per qualcosa e lì comunque c'era andamo a sassuolo e sassuolo era quello di frattesi scamacca rogerio tutta sta gente qua partiamo bene facciamo l'uno a zero insomma in fine conti la partita finita 5 1 per loro all'ottantottesimo mi sembra una roba del genere mister mi fa sali dico mister ma cosa salgo mi giro verso la pagina di faccio mister ma cosa salgo a fare che stiamo prendendo un gol a ogni porta che riparto fammi stare qua lui mi guarda mi fa sali io ho avuto la brillante idea di fare questo gesto qua il giorno dopo analisi video alle 8 di mattina a milanello non mi ero mai seduto in prima linea in prima fila per fare analisi video quel giorno purtroppo sono arrivato tirato e c'era posto solo davanti è entrato era a bordeaux fa dov'è campeol sfiga vuole che ero davanti a lui mi ha preso per qua mi ha tirato su le mie gambe facevano questo ok fa se tu da adesso ti permetti ancora una volta di dissentire da quello che faccio di rispondermi tu con mai chiuso mi ha rimesso giù penso che fossi del colore del muro che ho dietro per 40 minuti sono rimasto così a dire speriamo che non me le dia poi chiaramente è passato un po io chiuso scusa eccetera e da lì si è installato un rapporto che ancora oggi coltivo perché l'anno scorso sono andato a cena fuori con lui e su staff con fiori quindi una cosa meravigliosa cioè io per gattuso purtroppo non posso riuscire ad esprimere un parere oggettivo perché mi ha dato troppo per per essere oggettivo grande 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 anche anche il mister gattuso grande axel grazie per essere passato da noi e come sempre grazie 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 axel ciao 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 buona giornata devo dire lollo che in questo collegamento io personalmente ho imparato tante cose ho sentito tra le cose che non fapevo abbiamo respirato l'aria di un calcio io penso che abbiamo fatto un servizio utile ai nostri tifosi a chi ci segue penso che insomma tutte le cose che ci ha raccontato axel campeol siano molto istruttive ecco molto istruttive fabio infatti ci scriveva buongiorno queste sono le trasmissioni che mi piacciono un contenuto veramente interessante bravi grazie insomma prendiamo 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 il complimento grazie 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 allora prima del nostro prossimo ospite mauro lo discutono un attimo con te perché oggi si è rivisto sul campo d'allenamento a milanello yunus musa insieme anche a matteo gabbia quindi abbiamo una buona notizia yunus insomma recupera da questo problema che che aveva torna a disposizione l'ultima volta che l'abbiamo visto in campo aiutami mauro dovrebbe essere arrivo perché bisogna mettere un ordine nelle cose adesso aspetta che sto convocando il nostro prossimo ospite ecco che hai fatto allora e musa usa ha giocato il 13 dicembre contro il new castle ok poi non ha più giocato evidentemente non c'è stato un comunicato del milan non c'è stata una lesione c'è stato evidentemente un qualcosa un affaticamento un qualcosa in più di un affaticamento su cui il minano l'ha deciso di andare con prudenza per cui il 29 dicembre arriva a tutti noi che seguiamo il milan lollo la notizia sui sulle chat whatsapp usa è guarito 16 giorni dopo allora ripeto 13 dicembre new castle milan musa gioca 29 dicembre sappiamo è guarito adesso per qualche giorno farà riatletizzazione cioè prima di essere convocato vogliamo che faccia un po di lavoro per entrare in condizione il 29 dicembre oggi 4 gennaio si è allenato in gruppo con la squadra quindi dopo 16 giorni di più o meno stop che ha fatto qualcosa a parte ma era ancora sotto osservazione negli ultimi cinque giorni ha fatto lavoro di condizione fisica di riatletizzazione oggi si è allenato in gruppo questo è quello che è successo perché è passata la leggenda metropolitana del affaticamento fuori un mese no affaticamento 16 giorni 13 dicembre 29 dicembre poi il milan ha ritenuto perché in casa nostra quest'anno bisogna andarci cauti con gli infortuni il milan ha ritenuto che dovesse fare qualche giorno di lavoro lo ha fatto e oggi si è allenato in gruppo con la squadra questo è no ragazzi perché aspetta intanto leggo un po su youtube i messaggi perché due mesi di infortunio mauro io le date non le sapevo mauro appena parlato di newcastle ragazzi youtube soprattutto youtube soprattutto ma non solo poi c'è l'altro social che è molto peggio ragazzi se uno gioca il 13 dicembre a newcastle e il 29 dicembre diamo la notizia è guarito da oggi fare attretizzazione è stato fermo 16 giorni 13 dicembre 29 dicembre ragazzi di fronte all'evidenza delle date bisogna arrendersi quindi il 29 dicembre ha ricominciato a fare lavoro sostenuto oggi è tornato in gruppo con cinque allenamenti per migliorare la condizione nelle gambe oggi è tornato in gruppo e vedremo se verrà convocato per empoli infatti avevo detto subito alla vigilia di minan sassuolo ti ricordi che lo dissi in onda lo ricordo mi ricordo mi ricordo difficile che venga convocato per il cagliari più probabile per l'empoli questo è bene raga raga vi sapete che non c'è nessun problema ragazzi se fosse stato un infortunio grave i tempi di recupero sarebbero stati molto più lunghi se non è una lesione o un altro tipo di io non lo so ragazzi allora io dico una cosa Lollo io dico una cosa che i nostri tifosi siano incavolati anche un po' esasperati dagli infortuni ci sta lo capisco è giusto è doveroso però non trasformiamo questo problema che giustamente fa arrabbiare i tifosi non trasformiamolo in un'ossessione non trasformiamolo in una psicosa adesso sosteniamo la squadra perché siamo ancora in emergenza infortuni e ogni partita è una bella battaglia sportiva e dobbiamo che dobbiamo affrontare possibilmente vincere stando vicini alla squadra io dico solo questo andiamo sul prossimo collegamento Lollo sì allora vedo che Alessandro Budel è già pronto quindi nel caso lo facciamo entrare anche subito intanto ringrazio Adele per per aver fatto la sabbettina 21 mesi ciao Alessandro ciao ciao benvenuto bentornato ciao buonasera a tutti ciao ciao Alessandro grazie per essere qui con noi Alessandro Alessandro Budel ha fatto una grande carriera da professionista in Serie A tante squadre Lecce Triestina Genoa Cagliari Parma ne dimentico magari qualcuno Alessandro Torino Brescia Genoa Parma sì sì e aveva fatto il settore giovanile del Milan abbiamo avuto prima Axel Campeol che è stato in collegamento con noi e Alessandro Budel tu sei stato nel settore giovanile del Milan quando l'allenatore di prima squadra era Zaccheroni no Alessandro sì era beh anche Capello ho fatto io quindi Capello e poi Zaccheroni avevo sempre avuto Tassotti in primavera per due anni esatto esatto hai vinto il Viareggio tu hai vinto il Viareggio con Antonini con Antonini e Tassotti bravissimo bravissimo quell'anno lì che dopo tanti anni finale finale vinta 3 a 1 contro i croati dell'NK Vartex se non sbaglio no 1 a 0 avevano vinto no no Vartex allora era qualche anno prima no attenzione ha sbagliato il suo voto con una squadra brasiliana con una squadra brasiliana con una squadra brasiliana guarda qua una foto che sono in ufficio da mio padre che ha una foto di quella se volete vedere vedete quella era la squadra che ha vinto il Viareggio non so se è riuscito a vedere qualcosa viareggio nel 2001 col tasso si non so se si aspettate faccio prima così si aspetta è un quadro purtroppo quello che si vede è solo quello però lo stadio dei pini di Viareggio va bene va bene vabbè ti vede male a me perché è un po' alta quindi vabbè però per dire un bel ricordo Alessandro Budel oggi è apprezzatissimo commentatore tecnico e opinionista a voce di commento di Dazon delle telecroniche di Dazon della serie A e niente la nostra discussione di oggi è partita con Axel Compeol e prosegue in maniera assolutamente autorevole con te Alessandro su questo tema no i ragazzi del Milan che stanno dando nell'emergenza infortuni una grande mano alla prima squadra intanto Stefano Pioli è molto contento della mentalità con cui sono arrivati questi ragazzi in prima squadra significa che Ignazio Abate che l'aveva detto fin dal primo giorno ha lavorato molto sull'atteggiamento la mentalità le regole caratteriali di questi ragazzi che arrivano con garbo educazione in prima squadra ed hanno e hanno il massimo della disponibilità e hanno soprattutto Alessandro un'occasione una chance che devono sfruttare al massimo di cui devono sentirsi onorati di cui devono sentirsi fortunati non adagiarsi no è importante questa cosa qua perché tanti giovani delle primavere delle grandi squadre avrebbero voluto avere questi spazi queste platee ma bisogna poi giocarsele con decisione giorno per giorno perché non è normale averle no cosa ne pensi no sono d'accordo intanto fa piacere no sentire che comunque anche da Ignazio Abate che saluto con la qual ho anche giocato insieme a Empoli quindi sicuramente un bellissimo ricordo secondo te stai facendo molto bene ma che questi ragazzi arrivino con la mentalità giusta no io credo che quella sia la grande differenza che c'era ai miei tempi quando diciamo ero nel settore regione del Milan io avevo davanti a me grandi esempi quindi per me veramente c'è anche al Milan c'erano determinate regole avevano subito a portare l'orecchino e i cappelli lunghi dovevi studiare guardavano le pagelle quindi oltre ad avere un'educazione a casa con la famiglia ce l'avevi anche dalla società e comunque dai vari renatori quindi credo che questa sia una particolarità fondamentale per poi diventare giocatore soprattutto per capire che poi quando vai in prima squadra lì non è più cioè non è un gioco già lo devi capire un po' quando ti avvicini magari a livello di primavera ma lì poi quando inizia a contare il risultato quando inizia quello è un lavoro vero e proprio c'è c'è la gente che tra virgolette risparmia tutta la settimana per andare magari allo stadio perché quella è una passione c'è c'è il cuore dietro quella cosa quindi penso che bisogna capire un po' tutto quello che un calciatore alla fine deve provare perché deve sentire già tutte queste emozioni che li ruotano attorno e prima le capisci meglio è perché vuol dire che inizia a prendere sul serio quella che può essere poi una grande carriera di tutti i giovani che poi può dare anche tantissime soddisfazioni perché non sono tantissimi che hanno la fortuna di poter giocare a calcio intanto sto raccogliendo qualche domanda Mauro se vuoi ti do vai 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 stanno ascoltando molto molto volentieri Alessandro Budel quindi si vado ad ascoltare Alessandro te le giro così anche te è un po' random come mi sono arrivati Martina Alessandro bisogna andarci piano con i giovani ma il talento secondo te va rischiato sui grossi palcoscenici quello che stavi dicendo o preservato per non bruciarlo insomma il senso della domanda è se uno è forte lo butti nella mischia o lo centellini ma io credo che comunque i talenti vanno vanno anche buttati nella mischia poi sta un po' al tuo carattere la capacità di rimanere con i piedi per terra di mettere i panni di camarda non deve essere facile la sanità esaltare a San Siro il giorno dopo andare alle superiori con i tuoi compagni di classe che ti hanno visto il giorno prima a San Siro che diventi un idolo da compagno di classe sei un idolo cioè immagino che anche per lui sia difficile non sia facile lui però deve avere la fortuna intanto di avere una famiglia che lo tiene ben con i piedi saldi per terra è quello che penso sia fondamentale e tutto ciò che le ruota attorno perché poi le carriere lo sappiamo benissimo cambiano da un anno all'altro cambiano di domenica in domenica perché ci sono un sacco di fattori che incidono all'arco di una carriera quindi uno deve essere conscio di quello che sta facendo sentirsi fortunato ma poi il talento comunque va buttato anche perché poi io conosco quella squadra del Diareggio io mi ricordo che eravamo una squadra molto molto forte e siamo partiti tutti dalla Serie C perché in quegli anni si partiva al Milan giocavano i Fenomeni in prima squadra senza nulla togliere quelli di oggi e giocare in prima squadra era difficilissimo questo che dico quindi una volta ripartivi dalla C quanti dalla C ne sono noti fuori? io ho poi avuto la fortuna di giocare in Serie A ma di quella squadra forse saremo un paio di una squadra che se la giocava con i migliori squadri italiane l'Atalanta che giocava 11 quando riuscì e noi ce la giocavamo benissimo ne sono arrivati 9 su 11 in Serie A perché? Perché l'anno dopo giocavano già in prima squadra quindi credo che alla fine il talento vada buttato dentro e se poi sei bravo e rimani con i piedi per terra è un vantaggio anche per te eh sì oggi è tornato Matteo Gabbi a Milanello è tornato a casa sua in pratica Alessandro dopo sei mesi al Diareal e io spero che il ritorno di Matteo Gabbi faccia bene a Tommy Pobega perché Tommy Pobega ha avuto un infortunio delicato un infortunio serio però il ritorno del suo amico secondo me gli sarà di conforto in questi mesi ancora di attesa che come sai sono mesi delicati Alessandro come puoi immaginare i mesi del recupero i mesi del rientro sono sempre mesi delicati però Pobega è un ragazzo serio un ragazzo che secondo me se si mette sotto recupererà in fretta tornerà anche più forte di prima sono ragazzi tra virgolette che meritano a prescindere no? quindi che stanno la serietà del lavoro si applicano quindi come come dicevi tu penso che anche ritrovare un compagno d'avventure fin dalla storia giovanile faccia solo che bene a lui Zeroli se la deve giocare Alessandro Zeroli deve capire deve azzerare tutto quello che è successo prima non conta più ha una grande chance perché perché se lo sa sfruttare lo spazio cioè cosa dici di questo Alessandro? sì sono d'accordo sono d'accordo devi avere sai poi sono sono le occasioni che vanno sfruttate quindi oggi è l'occasione di essere al Milan quindi è già una grande fortuna giocare in certi palcoscenici quindi bisogna sempre sfruttare l'occasione e penso che lui abbia le qualità per poter ambire un'ottima carriera allora ho raccolto tre domande allora due sono su due giocatori in particolare però ti faccio prima la terza c'è Trilaterale che ti chiede questo Milan secondo te deve giocare con un mediano incontrista o con un mediano regista? sai il famoso discorso del 4-2-3-1 4-3-3 chi metti se giochi a 2 davanti alla difesa è un tema molto dibattuto negli ultimi giorni insomma nell'ultime settimane in ambiente Milan ma naturalmente io cioè giocavo davanti a difesa ma sono sempre piaciuti i giocatori di qualità io opterei sempre per un giocatore di qualità comunque davanti alla difesa io credo che il ritorno di benassera in quel ruolo sia fondamentale ho visto comunque Krunic che è un giocatore sicuramente importante all'inizio dell'anno ha fatto molto bene però è un giocatore più attento diciamo che sta lì nasce comunque mezzala nasce in un altro ruolo a me piacciono i registri che sono nati in quella posizione che sentono quel ruolo quindi non lo so io credo che anche lo stesso Render in quella posizione renda meno che da mezzala perché non ha proprio le intuizioni del regista vero e proprio quindi pensare a un rientro di benassera in quella posizione mi piace di più ecco concordo con te Renders comunque il meglio l'abbiamo visto a inizio stagione il meglio concordo e non contesto sappiate che una delle mie debolezze che io farei giocare Renders anche in porta quindi va bene va bene tu sono d'accordo dei giocatori di grandissima qualità cioè su questo a me piace tantissimo però viene a perdere qualcosa davanti alla difesa per me quindi all'uno contro uno all'ultimo passaggio quindi è bravo anche a ripartire perde un po' nella corsa lì servono altre caratteristiche davanti alla difesa poi ti stavo dicendo per esempio ci sono due giocatori chiedono due opinioni il primo Francesco che ti chiede un'opinione su Jovis tra l'altro leggevo prima adesso perdonatemi mi sono perso tra i centinaia di messaggi un messaggio molto bello che diceva Jovi ci sta dando le risposte che ci aspettavamo a inizio stagione da lui ti chiedevano Francesco ti chiede una tua opinione su Jovis e poi ho ancora un'ultima domanda ma Jovis un giocatore un giocatore che torna molto molto utile al Milan sicuramente e farà molto bene ancora ti faccio una domanda e te la faccio io anche a me piace un sacco ti faccio una domanda invece non hai i crismi anche tanto della seconda punta questa è una mia domanda secondo me è un giocatore intelligente soprattutto un giocatore che può adattarsi bene a giocare con un altro compagno di reparto io credo che per giocare a due devi essere devi essere anche bravo a giocare per l'altro tra virgolette io credo che lui queste capacità le abbia quindi si può adattare benissimo anche da seconda punta è un giocatore ripeto molto intelligente magari non è quel giocatore da 20 gol a campionato però è quel giocatore che nei momenti anche di difficoltà valorizza anche magari il compagno di fianco a lui c'è anche di fianco un giro io comunque lo vedo bene ecco fino ad oggi io lo chiamo Alessandro il modulo della disperazione quando devi recuperare un risultato metti Jovis e Giru in area due punte larghe e ti giochi gli ultimi 20 minuti col modulo della disperazione lui ha segnato a Bergamo e ha segnato a Salerno quindi sono d'accordo dall'inizio non lo so Alessandro dall'inizio non lo so no forse all'inizio è un po' troppo rischioso a volte anche perché poi sono due giocatori tra virgolette non proprio di di grande fatica che possa rientrarti fino al limite della scuola da Versa non è quella trequartista tattico tra virgolette che puoi mettere io con la seconda punta che si adatta secondo me è quel giocatore invece adesso anche la fine lo puoi buttare dentro con che ha struttura fisica che è bravo a tenere palla lì davanti che con Giroud può diventare un ottimo tando poi l'ultima domanda che ti volevo fare invece qua ti faccio un po' un recap di tante domande che sono arrivate riguarda Adli il tema su cui si discute di Adli è partita contro il Cagliari adesso lo recuperiamo appena lì finisce la chiamata Alessandro dici quando ci sei scusate sono col telefonino ma hanno chiamato perdonati sì sì no non c'è problema non c'è problema ti volevo portare un attimo è un professionista nel settore adesso tra l'altro arriva Luca Serafini specializzato in questa cosa che già è là dietro lo vediamo domanda veloce su Adli Adli prestazione molto molto positiva col Cagliari il tema di Adli il tema di Adli qual era partita molto positiva il Cagliari gli ha permesso di fare a centro campo anche con poco pressing nella sua zona di campo gli ha permesso di fare il suo gioco e io nel post partita nei miei video personali ho commentato che a larghi tratti ha disegnato calcio Yassin Adli quando ha avuto lo spazio volevo un tuo pensiero in merito guarda purtroppo non sono riuscito a vedere la partita quindi non ho potuto vedere però l'ho visto in altre situazioni Adli a me è un giocatore che piace tanto un altro giocatore a mio parere di grande avvenire mi piace un po' anche perché ha quella gamba anche da mezzala che arriva comunque da perciuta qualità potrebbe essere anche una grande alternativa anche se poi tante volte mi piacerebbe vederlo molto più da titolare con un po' di continuità ecco forse vorrei vedere un Adli con un po' di continuità cosa veramente riesce a dare a questo Milan e a mio parere potrebbe essere tanto è vero che ha della concorrenza non male in quella zona di campo Alessandro noi ti ringraziamo tanto per il tuo contributo per le cose che ci hai detto grazie tanti auguri di buon anno a presto grazie a voi a presto buon anno buon anno anche a te guarda Lollo la trasmissione fino a questo momento me la sono proprio conti perché cosa vorresti dire che adesso arriva Luca Serafini sei una carogna sei una carogna poi Luca la fa da solo la trasmissione non c'è nessunissimo problema ma ed è sempre con noi tutte le settimane Axel e Alessandro invece non sono con noi tutte le settimane mi sono più dovuto mi sono più dovuto adesso a parte gli scherzi Mauro infatti infatti a parte stiamo scherzando evidentemente lo dico per magari chi non colli l'ironia tra me e Mauro due interventi molto molto interessanti che portano il secondo grande esperienza è anche il primo un'esperienza di vita insomma di anche un taglio di quello che è la vita dei giovani giocatori la storia di quando Gattuso l'ho alzato ragazzi è una storia forte da raccontare con quella lucidità che ha usato Axel Campeone certo non è che normalmente si vedono e si sentono queste cose volevo dire una cosa vedo che le chat lo stanno scrivendo ragazzi io l'ho detto più volte di Adli ne ha parlato anche il mister dopo la partita sia di campionato che se non ricordo male anche dopo dopo la partita di Coppa Italia del fatto di poter schierare anche un trequartista ragazzi per me Yassin in un futuro potrebbe avere anche è ovvio anche lì la concorrenza è altissima lo tu stravedi per Adli eh sì ragazzi l'ho detto tante volte ma stravedo anche per Luca Serafini ragazzi Luca Serafini c'è ciao Luca ciao Luca una sera a tutti non mi fare in bestiarina sua perché sono fabbricitante con la tosse all'affreddore quindi la gamba sinistra stesa perché ho il mio dolore reumatico al quadricipite che ogni tanto sto patendo le pene dell'infio non puoi capire devo tirare fino a mezzanotte con sto dolore perché fino a mezzanotte perché fino a mezzanotte vai a dormire no mi sono unirove fino a mezzanotte la mia moglie è pronta con la pomata ma a mezzanotte cara donna il famoso Luca è il famoso quadricipite ti ricordi il video di Mauro esatto quando faceva questa faccia che partita era Mauro quando ti è partito Lazio Milan gol di Tonali è vero è vero è vero speriamo ma oggi ho letto da qualche parte che se hai fatto male un dirigente o qualcuno che ho avuto ho letto una cosa oggi non mi ricordo se quando l'hai letta Luca ma oggi ma su un sito attendibile per quello sono rimasto stranito va bene non mi ricordo se hai fatto male io ho detto siccome faccio i video sul mio canale youtube li ho fatti dalla macchina spiegando guardate ho questo dolore e allora è venuto ah si è infortunato anche non è un infortunio ma sei un dirigente tu no infatti no c'era il nome non so se è montato d'angelo c'era un'altra guarda era oggi a Milanello bello sorridente ma siccome l'aria che tira quella lì insomma pensavo fosse vabbè insomma è un reumo è un reumo che dal 2008 ogni anno anno e mezzo si fa sentire quindi non è un è certo volevo entrare a gamba tesa sull'olio quella questione e per gli adlia e per i tanti adliani che si annidano anche perché eccessivamente esasperati da Krunic a quale ho sempre riconosciuto grande impegno grande serietà grande professionalità ma un adattamento nel suo ruolo che evidentemente non era esattamente quello o non lo ha interpretato esattamente come in passato oggi caro Lollo nel Milan manca infinitamente un incontrista o un tappatore di buchi come dicevo io come Cassio come Tonari quindi anche se tu hai benassere Rinders oppure non hai benassere metterli la squadra non è bilanciata a parte il fatto che anche l'altra sera col Cagliari non vi sarà sfuggito che nel primo tempo lì perde una palla in area e a momenti il Cagliari fa gol e non ha fatto gol solo perché l'attaccante Sardo ha tirato male a molle ecco e purtroppo questo è il raggio una palla di Macumbu all'inizio Luca nel primo tempo nel primo tempo lui sbaglia un disimpegno con la palla per i piedi in area e anziché come fanno tutti il mondo calciarla come i rugbysti a 70 metri cerca un passaggio dalla sua area fuori che viene intercettato il Milan a momenti prende gol Luca io non sono un adrivista non sono un adrivista ma col Cagliari mi è piaciuto tantissimo sì ma arrivo il problema è che Arli è un vecchio trequartista o un vecchio mediano di costruzione perché ha sicuramente il piede ha sicuramente l'idea e ha il coraggio del lancio dell'apertura del cambio di gioco il problema ragazzi è che questa squadra manca li potete mettere dentro chi volete a centrocampo ma è una squadra che è sbilanciata perché non ha un incontrista se non Ben Nasser che non è esattamente né Tonali né che sì però questo è quello che io continuo a sperare a pensare a pregare che Musà possa imparare a farlo perché mi era stato detto un anno fa quando giocava in Spagna è un giocatore che ha talmente tante attitudini anche di recupero che potrebbe anche diventare come che sì parlo proprio come predisposizione però oggi tu con Atli Reinders e Love to Take non puoi giocare hai ragione non puoi giocare lo so hai ragione e capisco quindi non ti voglio contraddire però a tendere a tendere adesso te la dico grossa non vorrei farti incavolare ma le grandi squadre europee l'incontrista non ce l'hanno le grandi squadre sì però hanno solo costruito ma va bene che cosa che cosa ha fatto nella prima parte della stagione Pioni e funzionava con i giocatori a disposizione si era inventato Teo Hernandez e Calabria che entravano nel campo si allargavano a turno insieme addirittura Reinders e Love to Take alle spalle di Pulisic e c'era densità facendo quella densità sopperibile alla mancanza le squadre che non hanno perché tra l'altro sono pochissimi quelli che di incontristi ce ne sono forti quelli che non ce l'hanno si organizzano in questa maniera mano a mano che perdi i pezzi questa protezione a difesa ho letto il dato dei gol presi nel 2023 rispetto a quelli che sono stati nell'anno lo scudetto è una cifra enorme perché alla mancanza di un giocatore come quello o addirittura due devi cercare di sopperire col gioco e purtroppo in questo mosaico uno come Adli non ci sta o tu fai Adli dietro alle due punte e allora fai un centrocampo a tre per dire con due incontristi e un benasere uno che ma non lo sono né nell'off-to-cheek nel Reinders e siccome hai l'off-to-cheek e Reinders che sono di qualità quando l'off-to-cheek sarà finalmente al 100% della condizione è un problema il suo inserimento non so come dirlo fino a quando non imparerà anche la fase difensiva che non è solo e tanto nel posizionamento vedi a Cagliari in campionato ma è anche nel fare delle scelte vedi Cagliari in Coppa Italia che non puoi fare quando sei in area o nell'area difensiva perché regolarmente la squadra rischia di prendere un gol su questo è un lavoro che va fatto importante quando Adli imparerà tatticamente a muoversi a essere anche un po' più forte un po' più energico nel contrasto difensivo e anche più agile e più intelligente nelle letture allora parleremo di un titolare ma in questo momento in questa squadra è un lusso che non ti puoi permettere a meno che non lo metti dietro le punte che però dovrebbero essere sotto due Luca io capisco perfettamente quello che dici ma in questo mese di gennaio ne abbiamo bisogno ma no ma in questo mese di bisogno c'è bisogno anche di noi tre quello è un altro discorso io parlavo in generale in generale questo è il problema anche oggi cioè non so che cosa farà la società al centro campo non è più pobega non è meno però se rientra Musà secondo me è più facile che giochi Musà con Ryan del Seeloft e lo capisco il perché sembra che Musà a sua volta migliori in quel tipo di predisposizione è una considerazione molto interessante questa che fai perché noi passiamo dal Milan scudettato con un centro campo molto abbottonato tra virgolette perché avevi Frank trequartista Frank e si trequartista avevi ben a sera avevi tonali oppure mettevano Krunic ragazzi la formazione titolare delle ultime sette partite dello scudetto era che si tonali a centro campo e Krunic trequartista Isma era beh però Mauro quella formazione che hai appena detto è una formazione molto abbottonata perché comunque tu hai due incontristi a centro campo hai Krunic che gli sta davanti per fare la prima pressione però avevi avevi gli esterni è certo è certo che bilanciavano certo il discorso è quello lì il centrocampo nel 1000 abbiamo subito sette gol in tutto il girone di ricordo ecco e c'era quel centrocampo lì che diceva Lorenzo perché è così non subiva la difesa era protetta Teo Hernandez poteva spingersi vincevi le partite ma quella è stata una fase come al solito anche di emergenza per assenza eccetera ed è un fatto però anche ripeto a pieno regime nelle famose prime otto giornate di campionato in cui il Milan vinceva le partite il centrocampo era un centrocampo anomalo dove Pioli aveva inventato un sistema per avere più protezione numerica che qualitativa perché quei giocatori come Tonali come che si è come lo stesso Krunic non li avevi più e quindi e con tre giocatori come diciamo Benasera anche se era rientrato da poco sicuramente Reinders e Loftus Cic dove devi cercare di inventarti qualcosa perché se no la difesa gioca scoperto infatti Pioli in questa estate cosa diceva ci attaccheremo coprendo di più la metà campo in attacco in offensiva la miglior difesa all'attacco faremo possesso palla aveva detto queste cose perché perché non potete più giocare come il fatto c'è da fare però una considerazione però che ovviamente non sono a disposizione quindi non ce li hai quindi stiamo parlando di nulla però con la tua difesa titolare con i tuoi due difensori titolari hai comunque giocatori che hanno per caratteristiche di stare molto alti quindi quello spazio di cui parli tu tra la difesa e l'attacco e il centrocampo perché si spinge in avanti che oggi magari rimane un po' di spazio se tu hai la tua difesa titolare e i tuoi difensori titolari per caratteristiche stanno molto alti se tu lì hai Calulu e hai Tomori sono due difensori che stanno molto alti Lorenzo i centrali difensivi la linea difensiva titolare nel 2023 li hai avuti quasi sempre a turno se non ce n'era uno c'era l'altro ma il problema c'era perché hai preso un'imbarcata di gol anche con i centrati a parte quello che è successo a gennaio-febbraio senza tornare però la media dei gol subiti è stata altissima ancora più alta se paragonata al primo milio di Pioli i primi anni di Pioli allora perché? perché manca un equilibrio nel gioco della scuola non c'è niente da fare manca un equilibrio perché quel giocatore lì non c'è se tu prendi l'Inter per esempio Barella fa tutte e due le fasi il Turco fa tutte e due le fasi Mkhitaryan fa tutte e due le fasi sono bravi avanti e a coprire poi loro giocano più perché giocano più in copertura e si giocano più in copertura quindi va ancora meglio perché stanno tutti belli bassi abbottonati però quando poi devono fare la partita hanno soluzioni più ampie rispetto al Milan quando aveva tonali e che si parlo per caratteristiche inutile divangare il fatto che si torna edo che ti dice perché sono più compatti Luca mi spieghi chi è perché chi è Lorenzo cioè siamo io Lollo e Luca chi è Lorenzo no giustamente Luca mi chiama Lorenzo con il mio nome giusto ma tra l'altro da sempre lui è un giovinastro lui è un giovinastro è un giovinastro Luca mi chiama da sempre Lorenzo giustamente è il nome proprio più confidenziale comunque più compatti ha ragione infatti io sono due settimane che dicevo e poi tanto qui lo possiamo dire è brutto l'incipit io l'avevo detto e fa sempre schifo però sono due settimane in questo momento di crisi di difficoltà di smanimento si serve una squadra più compatta giovedì scorso abbiamo parlato dieci minuti dell'essere compatti che non vuol dire essere difesa vuol dire avere una squadra corta una squadra che si aiuta una squadra corta e una squadra che ci aiuta all'infinito questo significa essere compatti voglio dire due cose voglio dire due cose ragazzi voglio dire la prima poi decidiamo se farti dire anche la te giustamente guarda che attacco il giapponese guarda che attacco il giapponese Luca coreano non il giapponese no il giapponese il coreano mai visto Djokovic in conferenza stampa che me l'hanno fatto notare meno 11 ragazzi ha parlato in cinese ragazzi l'ultima vittoria in campionato in trasferta 7 ottobre Genoa Milan sono tre mesi che non vinciamo una partita in campionato in trasferta e questa è la prima cosa che devi dire adesso dirà la seconda la seconda è che vi vorrei dare formale e totale assicurazione che nessuno ha contattato nessuno Milan Entourage nessuno per Tomori quindi nessun contatto di nessun tipo di nessun rilievo di nessuna di nessuna fatta quindi il Bayern se lo scorda insomma Luca io ho rispetto del Bayern so quanto è importante Tomori per noi ho rispetto per il Bayern non parlo del Bayern io parlo dei telefonini io parlo dei telefonini io parlo dei telefonini dell'Entourage di Tomori e dei telefonini della Cine nessuno ha contattato nessuno per Tomori ma tu dove hai spiato i cellulari dell'Entourage di Tomori Fidati se Suma dice così fidati perché andare a scoperchiare guarda a me più del mercato in uscito delle voci vorrei capire se ci sono i mercati in entrata lo sapevo che Luca arrivava lì perché siccome Suma e Vercellone sono i due depositari della verità del mercato del Minas snocciola i nomi depositario verità Vercellone basta punto snocciola i nomi Suma non ti snocciola i nomi ti snocciola l'impostazione ti snocciola i criteri io ho sempre pensato che in difesa sarebbe arrivato Gabbia più uno Gabbia è arrivato aspettiamo l'uno aspettiamo l'altro e l'altro stiamo lavorando ma idee di tempi di chiusura perché siamo già al 3 gennaio idee di nomi sì se non fai i nomi Moncada non mi metto a farli io no ma il tempi di chiusura eh Luca non domani mattina dopo domani piacerebbe posso dire una cosa Luca Luca posso dire una cosa però però Gabbia il senso del ritorno di Gabbia è un po' lo specchio di tutto quello che abbiamo detto noi nelle trasmissioni passate noi continuavamo a dire se deve arrivare un difensore deve essere qualcuno che tu lo prendi lo fai giocare tra tre giorni esatto lo fai giocare tra tre giorni e Matteo difesa difesa Gabbia più uno poi attacco non è una priorità eh no non è possibile la chiamata a Luca Serafini non è una novità invece cioè chi è Luca la sorella no Giulia adesso è il turno di Giulia Giulia di Matteino e il mondo di Diego Vattantonio ce l'avevi detto ce l'avevi detto c'era esatto per andare al forno vi do questa chicca uno degli autori italiani che io ho amato di più era Piero Chiara Piero Chiara dal quale hanno tratto dei film meravigliosi con Pozzetto con Ugo Tognati tipo venga a prendere il caffè da noi la stanza del vescovo il piatto piante uno dei capolavori di Piero Chiara si intitola il giovedì della signora Giulia che era una donna tutti sono ambientati nel Varesotto generalmente o sul lago maggiore secondo i libri e questa donna scompariva tutti i giovedì non si capiva dove andassi poi si scoppa non voglio spoilerare Piero Chiara è uno degli autori migliori che abbiamo avuto nel secolo scorso e c'erano i giovedì della signora Giulia bellissimo bellissimo questo fresco di Luca Serafini bellissimo allora l'attacco non è una priorità perché si sta avvicinando non è una priorità la serve uno in mezzo anche il centrocampo fuma il centrocampo dobbiamo vedere prima cosa succede con Krunic e poi vedremo ma Krunic succede o non succede mi sembra un po' ai margini e lo so Luca però la priorità è risolvere Krunic ho capito ma potevamo risolvere a dicembre che qui manca Pobega manca questo manca Benastera stringi insomma mi sembri che cazzeggi in questo periodo stringi un po' vai al sodo vai dritto alla meta io ti dico le cose come stanno oggi Luca poi vediamo sì no ma è adesso a parte di scherzi qui Benastera lo rivede a metà febbraio Pobega non lo rivede quello non dipende da su no non dipende si vede se è troppo biadito per essere coinvolto nella coppa d'africa di solito quando mi concentro porto a casa riso scherzi scherzi ecco però secondo me un centrocampista in questo momento serve per me serve però Luca Luca scusami scusami l'ultima coppa d'africa si è svolta nel 2022 vi ricordate nel 2022 andarono via che si è Benaster Benaster tornò e la coppa d'africa ci fece un grande favore perché la coppa d'africa nell'anno dello scudetto ci restituì un grande Benaster da fine gennaio quando rientrò con la Juve a San Siro che facciamo 0-0 lui fece una grande mezz'ora fino a metà marzo quando fece quel gran gol a Cagliari e fu decisivo nella vittoria di Napoli quindi però è possibile Luca che il 2022 cioè è possibile la coppa io non contesto la coppa d'africa ma ogni due anni cioè ogni due anni adesso non è che possiamo contestare qui la formula della coppa d'africa io contesto anche la formula della coppa d'africa ho capito però siccome lo sappiamo a luglio e adesso bisogna abbiamo perso nel frattempo Pubega e altri elementi adesso c'è bisogno anche Chuck Wage che a modo suo insomma è perduto quindi bisogna cercare di fare qualcosa sono il Dillo del Fellone ragazzi vi porto vi porto sul tema Okafor ci chiedono se sappiamo quando poi tornerà Okafor firmiamo cambiali su queste robe ragazzi perché sennò poi ci accusano di essere i dittatori nordcoreani eccetera eccetera allora Okafor oggi ha iniziato a fare lavoro personalizzato si sta avvicinando gradatamente ragazzi con con l'emergenza infortuni totale tsunami che abbiamo avuto quest'anno ogni rientro deve essere cauto deve essere prudente quindi con calma si sta avvicinando io spero che per la Roma possa essere convocato ma è una speranza mia non struca Lollo veramente che poi i tifosi se devono sfogarsi con qualcuno si sfogano con me è una speranza mia che allenamento personalizzato che poi l'allenamento personalizzato se tu devi fare allenamenti per recuperare condizione non puoi fare lo stesso lavoro ordinario che fanno i compagni di squadra in gruppo quindi l'allenamento personalizzato io spero che con la Roma o la partita dopo possa esserci non ce la faccio più chissà se sarà ancora la moglie di Evato Antonio ora lo scopriremo ragazzi la hit dei collegamenti con Luca è questa chi era la Giulia adesso fatevi un attimo gli affari vostri no no scusami era una fidanzata Luca non fare il pudico no non faccio il pudico ma non era la fidanzata allora dicevamo dicevamo hocaforo oggi è iniziato a fare è tornato serissimo da questa camatta allora oggi così ne approfitto per fare gli auguri è il compleanno di Vanessa Gravino punto oh eccolo tanti auguri tanti auguri su Instagram ho fatto gli auguri su Instagram hai sentito come si è addolcita la voce di Luca a fare questi auguri ovviamente ovviamente sì ovviamente sì riassumendo ocaforza inizia oggi a fare il personalizzato può rientrare in gruppo martedì prossimo se tutto va come deve andare e con la Roma potrebbe essere convocabile faccio io il nostro Adamus poi Musa e Sportello ho letto che sono rientrati in gruppo no no Musa e Gabbia Musa e Gabbia oggi hanno fatto lavoro in gruppo con la squadra e Sportello è a posto? Sportello Luca ha avuto un infortunio di due mesi e mezzo perché Sportello da quando si è infortunato nella prima decada di ottobre da quando verso fino dicembre è stato trappelato che fosse guarito è stato un infortunio di due mesi e mezzo tu mi insegni Luca che più lungo è l'infortunio più deve essere il lavoro di riportarlo in convenzione comunque Mirante mi dà tranquillità rigo la sintesi Dio solo sa quanto Sportello avrebbe voluto esserci l'altra sera con il Caglia la mia personale sensazione è che questa settimana Sportello terminerà la sua tabella di lavoro il suo programma di lavoro e la prossima settimana potremmo vederlo in gruppo questo ti dico di scuola volevo fare i complimenti su Twitch ai 26.030 punti giocati su Luca Serafini riceverà un'altra chiamata in diretta il pronostico il pronostico è stato indovinato dai 26.060 punti canale potremmo fare un Twitch Bin Bet Twitch non entriamo non entriamo in argomenti per l'amore di Dio perché no Bet Twitch è acclarato ti chiedono di Terracciano Mauro si appunto che fa il vago faccio il vago quindi fa il vago ragazzi va bene a parte i sospiri ma che ragazzi dai una notizia di qualcosa un'indicazione una sensazione una percezione una cosa di straforo un'indiscrezione una voce di qualcosa però Tutto Sport Tutto Sport non su ma Tutto Sport ha fatto un articolo in cui ha titolato Terracciano il Verona cerca l'asta io non lo so se il Verona cerca l'asta o se il Verona non cerca l'asta quindi la notizia di Tutto Sport non sono nessuno per confermarla non smentirla ho letto il titolo dico fra me e me che se qualcuno cerca di fare l'asta con il Milan di mezzo il Milan non partecipa ad Aste ma non so se c'è un'asta per Terracciano ok al netto di questo cioè al netto di questo Luca e Mauro chiedono un vostro parere sul giocatore quindi non parliamo di piace molto ok sì è un prospetto te lo dicevo prima me ne sono piaciuti due di giovani quest'anno in Cagliari Milan mi era piaciuto Oristanio e in Milan Verona Terracciano beh lui è un bel prospetto molto duttile infatti è seguito da molte squadre sta crescendo bene è uno dei onestamente pochissimi che si salvano nel Verona il quale fra l'altro sta facendo un mercato in uscita che leggevo sta creando molti malumori in città perché insomma la squadra messa così male che per di più vende i pezzi migliori è complicato però questi sono problemi loro ma il ragazzo è molto 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 interessante è tipo Simic sembrano avere già la postura la maturità dei veterani no? non tipo Simic come giocatore tipo come impatto quando giocano in partite importanti e debuttano in Serie A o in Coppa Italia si deve migliorare si deve migliorare Simic vabbè hai scoperto l'America nel 1492 mentre cercavi l'India certo che le migliorare a 16 anni mi raccomando l'India 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 a 16 anni con decorrenza a 16 e un giorno lasciano crescere però ho detto che la postura e la personalità con cui sta in campo sono da giocatore con prospettiva che debba migliorare parliamo di Erli che è uno che sono 4 anni che tra Bordeaux e Milano eccetera deve migliorare certo che deve migliorare guardate che voi capitano del Bordeaux no no Luca hai ragione cioè se devi migliorare uno che ha fatto capitano del Bordeaux esatto figurati Simic certo anche Imen si deve migliorare l'altra sera il povero Traoré prima del gol non aveva quasi mai toccata poi il calcio aiuta la squadra stava bene aveva entusiasmo ha giocato bene però attenzione l'hanno fatto tutti bella figura però attenzione Imenes se si aggiusta tatticamente perché Imenes è un terzino se fa il terzino fa il terzino se no fai l'attacca ma se fai il terzino e si aggiusta con la testa da terzino può diventare un giocatore veramente importante sì va bene però è uno di un giocatore importante perfetto e il problema è come sappiamo la recompra del Real quindi è un giocatore che possiamo solo cullare fino a quando tornerà alla base però dicevo di Simic è un giocatore che anche Ciao può migliorare ancora ormai è titolare da un anno e mezzo anche Calulu può migliorare e gioca titolare da tre anni tutti possono migliorare anche Teo Hernandez di questo periodo può migliorare lo ha detto Pioli fra l'altro in questo momento onestamente con la bregazione l'attenzione la concentrazione che ci mette io me lo giocherei ancora a centrale visto che tanto proprio ancora più a sorpresa quando parte non se lo aspettano gli avversari il problema è di avere però a sinistra uno che lo aiuti Luca giochi in 12 giochi in 12 perché tu hai un difensore centrale con Teo tu giochi con Teo e con Hernandez hai Teo eh ho capito però però a sinistra non avendo uno di ruolo perché non lo sono lo so Luca ma quando ma quando lui si sgancia allora tutti sono marcati no? quando si sgancia il difensore centrale gli avversari si guardano e dire ma questo che 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 si va bene certo però torniamo al discorso di prima per fare questo devi essere protetto perché anche il nostro Montè ogni tanto non è che tutte le volte come col Cagliari doveva sul fondo e fa il cross qualche volta perde il pallone in zone del campo minate e la squadra avversaria riparte tu hai il centrale là davanti quindi con un terzino sinistro che non è di ruolo e con un centrocampista che non hai ecco perché ti sto dicendo gli equilibri di una squadra sono il calcio è semplice per carità di Dio però gli equilibri sono sottili e vanno rispettati quindi e a me è piaciuto molto l'abnegazione che ci ha messo Teo in queste ultime partite e soprattutto lascia perdere il Cagliari il Frosinone il livello di avversario non mi interessa perché sono sempre avversari molto rispettabili e molto forti ma fai male anche con la Salernitana con tutto rispetto certo fai male con l'Udinesi fai male con la Taranto e fai male con la Salernitana quando tu fai bene fai bene perché tutta la squadra ti aiuta Teo ha potuto fare quelle due partenze perché la squadra era ben disposta a parte sul primo che Cagliari ha fatto un errore di valutazione enorme e gli ha lasciato via libera però in buona sostanza no sul secondo in buona sostanza è la squadra che che deve contribuire a questo in questo momento di difficoltà tattica che esiste dall'inizio dell'anno e l'emergenza che esiste da poco dopo ti dicono sì diciamo che tanti tanti la pensano così dicono che Teo comunque terzino sinistro naturale è vero che in mezzo alla difesa guadagni appunto le galoppate però perdi un giocatore incredibile sulla sinistra sì però il problema è che quest'anno era un po' pigro sulla fascia mi era un po' evanescente non l'avevamo mai visto così concentrato e cattivo come nelle partite da centrale ragazzi gli ha ridato il sorriso fare il giocatore centrale gli ha ridato esatto gli ha acceso quelle lampadine ripeto di attenzione di concentrazione di abnegazione che sulla fascia in questa stagione non stava avendo Pioli gli ha tirato una bella frecciata l'altra sera dopo la partita e non è la prima volta l'altra sera non ci credo incredibile l'altra sera è stato più con gente del solito era ancora Vanessa no era Cagno era Cairo salutiamo Cagno ma che Cairo Cagno 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 Caprarella salutiamo Presidente Cairo Cagno 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 è un tecnico che ha fatto la storia della radio Carlo Lorenzo Rollo perché lui è un certo lui e un gruppo di altri intelligenti nerd degli anni 70 impiantarono Radio Milano International poi One One Network che è stata la prima radio privata italiana e allora dicevo che Cagno Teo si è industriato in queste ultime settimane in modo che nelle precedenti puntate ci aveva lasciati un po' sconcertati e Piolli un paio di frustatini gliela date quella dopo il Cagliari ancora un po' più pungente del solito perché dice se lui capisce se lui fa se lui si applica se lui se lui se ecco perché dico in questo momento me lo terei centrale Tio Hernandez a patto che ci sia a sinistra sempre San Florenzi che faccia quello che fa splendidamente anche lui per serietà e per mestiere è strepitoso però si vede che rispetto alla fascia destra è un altro giocatore Pulisic trequartista vi chiedono se c'è possibilità e come lo vedete Pioli è innamorato io in questo momento non si può fare come sempre ha detto Piochè non c'è Cioccoegge non ci sono alternative non c'è Ocafor Romero non mi pare francamente ancora pronto e quindi trovo di giocare a destra lo vedremo più avanti di Pulisic trequartista Mauro? Sì io devo dire la verità nel finale di Milan Cagliari forse per il freddo ma non poi la partita era già indirizzata non ho visto cose scintillanti invece è piaciuto molto ai tifosi ma Pulisic può fare quello che vuole nella vita può fare il sinistro il destro il trequartista alla prima punta Pulisic è un giocatore straordinario secondo me può fare quello che vuole l'importante è che giochi il tema anche questo il mio dolore di Salerno il mio dolore di Salernitana a Milan è l'unica partita in cui non mi è piaciuto Pulisic l'unica l'unica Salernitana a Milan è vero sì è vero concordo con te qual è una partita dove avrebbe dovuto far la differenza è vero è vero è vero eh ma lì sai Mauro però non lo so lì poi tutta la squadra era un po' un po' così bella questa domanda Daniele quando faccio Camon Baby sono in estasi poi diventi diventi virale quindi figurati no ma no mi piace il momento scusa Luca Luca Mauro questo è un altro tema interessante Daniele ne ho parlato anche oggi nel mio video Jovic si è guadagnato la titolarità nella partita nella prossima partita oppure il dualismo sentiamo Luca continuo dipende dalla condizione di Giroud onestamente anche in buone condizioni mi sembra che nelle ultime partite vorrei dire da quella di ritorno tristemente col Borussia Dortmund nel girone Giroud ha abbassato un po' il livello delle sue prestazioni non so se quel rigore sbagliato dopo tre minuti lo abbia così abbattuto o se la condizione non sia proprio scintillante le ha giocate tutte Luca infatti ho detto non so se sia questo e onestamente in questo momento io a Empoli farei ancora rifiutare Giroud e Butereni da Miskajovic Mauro? ragazzi noi la prossima settimana è una delle settimane decisive della stagione Empoli-Mina Milan-Atalanta quarti di finale secco quarto di finale secco di Coppa Italia e Milan-Roma la prossima settimana abbiamo bisogno di tutti più li ruotiamo più li giriamo meglio è è la settimana è la prima settimana decisiva della nostra stagione non so cosa ne puoi no 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 io concordo con te perché comunque c'erano altre settimane decisive purtroppo ce n'erano altre la Champions e lo scudetto si sono allontanati parecchio Luca la Champions la Champions ti è girata su tre rigori quello sbagliato per carità quello sbagliato per Borussia e quello dato a Parigi al 108 benissimo ne abbiamo parlato dico però ho dato di fatto che adesso è decisiva per i nuovi prospetti poi ci sarà decisiva le partite con Ren e sono tutte decisive sono tutte importanti servono tutti sì in questo momento io tra Empoli e Atalanta in questo momento farei partire Iovic onestamente anch'io sì sì fatele fatele ragazzi fatele adesso Luca quando poi dovrà andare ce lo dirà sì sì no no vai vai andate andate allora chi c'è infortunato e quando tornano un recap degli infortunati l'abbiamo già fatto prima dovrebbero Mauro indicativamente perché poi ci perseguitano tu appena dici una roba non succede ma tu guardate ragazzi ripeto quelli più vicini a rientrare potrebbero essere Musa che oggi ha fatto in gruppo e Sportiello e e Ocafor come diceva Luca la prossima settimana verso la Roma gli altri sono tutti lungodegenti Ciao Calullu Tomori e Pobega sono tutti lungodegenti era più decisiva Juve PSG Napoli dice Paolo Paolo noi pur guardate ragazzi l'unica no 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 quella non è stata decisiva insomma il campionato eh lo so hai perso è stata decisiva perché ti ha tagliato fuori quindi è stata decisiva sì ragazzi lo so però io vedo io ieri vedevo Roma Cremonese ho visto un fallo clamoroso ultimo uomo di Ravanelli difensore la Cremonese uguale a quello di Ciao su Ken ma non c'è stata l'espulsione c'è stata solo no io ho visto anche i primi 20 minuti quattro falli della Cremonese quattro cartelli di gialli tre falli della Roma zero cartelli di gialli strano perché quello lo ho visto Mourinho si pone nei confronti dell'ambiente arbitrale però questi sono prognuno al di là di questo la settimana decisiva è quella che ti tiene in corso quella che ti che ti manda fuori dai dei giochi poi diventa decisiva quella che ti fa vincere che ti fa perdere se arrivi fino in fondo tutte le settimane in questo senso le partite sono decisive oggi sono decisive è decisiva quella di beh con l'Atalanta non di Milano è quella dentro fuori quindi è decisiva per forza con l'Empoli con la Roma non scherzano no però non sono decisiva sono importanti sono dedicati diventa decisiva se non le vinci se le vinci diventano molto pesanti perché si allontani da quella dietro è una di quelle settimane in cui devi esserci ecco tu con l'Atalanta se fai il colpo di passare tu le semifinali poi ce le hai ad aprile un'altra vita un altro film altri giocatori un altro film lo so mi è piaciuto questo intervento con la maglia del grande Torino si il Granata è per quello che ti ha chiamato Cairo può darsi in realtà è proprio una maglia da casa normalissima bel colore no vabbè tu spicchi per il vocione raffreddato e per il faccio triple M se leggo questa qua a Suma diventa rosso a Empoli sarà molto più difficile che a Salerno si certo questo non lo so no no in partenza poi dipende dal Milan se il Milan riesce a far diventare complicata anche una partita in casa con l'Udinese e invece sembra fare a polpetta il Napoli dipende dal Milan i ragazzi adesso devono capire che non vinciamo in trasferta in campionato dal 7 ottobre esatto anzi se lo devono ficcare in testa infatti scusa Mauro Mauro tu mi è piaciuta una cosa che hai detto in un video il mister parlava di continuità e quando parlava di continuità parlava parlava di questo parlava di partite da vincere fuori che sono quelle che poi ti danno la continuità certo perché se non le vinciamo diventa un po' diventa un po' alla Coppa Italia ci credete Luca? assolutamente sì io continuo a contestare la formula al calendario è la mancanza assoluta di attenzione che la federazione e la Lega danno a questa Coppa che viene sparpagliata qua e là poi si gioca alle 21 il 2 gennaio a San Siro e magari alle 15 a Bari a Ferragosto e questo sono contosensi però la Coppa Italia è un trofeo che ti fa fare la Supercoppa che ti dà un posto sicuro in Europa League che è un trofeo che manca da 20 anni l'altra sera ho sentito Cristian Panucci chiedere in diretta a Pioli dice sarebbe ora che la vincete questa Coppa Italia perché l'ultima che ho vinto il Milan giocavo ancora io nel Milan quindi eh sì sono passati tanti no 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 nel 2003 giocava ancora lui giocava ancora lui giocava a calcio ah giocava a calcio lui credo addirittura invece no forse non era più neanche nella Roma no no comunque giocava ancora lui sì era nel 2003 l'anno meraviglioso ha festeggiato in poche settimane la Coppa Italia e la Champions giocando fra l'altro la finale andata e ritorno a Roma in una maniera clamorosa 20 maggio 20 maggio Roma 1 intendo mi piacerebbe e mi piacerebbe ho dito la verità l'accoppiata Coppa Italia Europa League lo scudetto alla Juve e poi ah scusa vabbè magari diventa anche il Milan Antonio ci chiede del Ciucu Antonio ha scritto 25 volte lo lo leggi ti leggo il Ciucu ragazzi il Ciucu io lo vedo non so cosa ne pensate voi io lo vedo più a suo agio in Champions League che in campionato in campionato le difese ruvide tattiche italiane secondo me lui le soffre deve crescere deve crescere molto manca forse un po' di scaltrezza in determinate in determinate cose siamo in chiusura Stefano mi dici gentilmente quanto manca 30 secondi sì esatto grazie conferenza stampa sarà sabato alle 14.30 parla ma 14.30 noi o il mister no il mister il mister parla alle 14.30 ok quindi noi iniziamo 14.15 ok ok grazie 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 nel Milan c'è quando parla il mister non quando parli tu no la diretta inizia 15 minuti prima raccogliamo le domande anche Luca Serafini se vuole collegarsi raccogliamo anche le sue domande e poi dopo le porgiamo direttamente direttamente al mister anche anche se lui è abituato insomma a fare domande direttamente ho l'aspirina l'aspirina effervescente diluita nell'acqua e ne prendo un po' alla volta dobbiamo chiudere Luca non abbiamo più tempo non abbiamo veramente Luca recupera per l'inferno eh Luca recupera per l'inferno no no io recupero abbiamo cinque secondi ragazzi domenica mattina alle undici e mezzo Milan TV il pre partita di Milano e poi il posto ciao 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 a tutti ciao a tutti è la data che tengo a memoria AC Milan AC Milan uguale vittoria in Europa si è fatta la storia milanisti nel cuore sono undici in campo e milioni là fuori però sono è la data che si è fatta la storia è la data che si è fatta la storia e la storia